L'ingresso della Finlandia nella Nato, deciso lo scorso 4 aprile, viene accolto con favore dai cittadini di Helsinki. Nel centro della città, intorno alla stazione, nella piazza del mercato, c'è un gran via vai, ma in molti si fermano per commentare una decisione che è stata da più parti definita storica. Penso che sia molto molto buona la decisione di entrare nella Nato, ora siamo al sicuro, o meglio più al sicuro. Speriamo che non ci siano delle conseguenze, ma non credo che ce ne saranno, tutto andrà bene. La bandiera giallo-blu, quella ucraina, sventola sui principali palazzi della città, dal comune alla stazione, dai musei fino ad alcuni palazzi privati. Dopo oltre un anno dall'inizio della guerra, il sostegno della Finlandia a Kiev non è venuto meno. Tutto qui a Helsinki parla ancora di Ucraina. Slava-Ucraini, Etbone, recita un cartello di un negozio vicino al porto di Helsinki. La decisione dell'ingresso nell'alleanza, la Finlandia e il trentunesimo paese ad aderire, è stata accolta positivamente dalla maggioranza della popolazione, in maniera trasversale, dai giovani ai più anziani, di qualunque classe sociale e politica. Ecco alcune voci raccolte da Scaniusa ad Helsinki. Penso che l'ingresso nella Nato sia una buona idea, perché il mondo sta cambiando e noi siamo i vicini della Russia, i confinanti. Quindi l'ingresso nella Nato è una buona cosa. Non approvo la guerra. Penso sia una cosa terribile aver iniziato una guerra come quella. Noi sosteniamo l'Ucraina. Penso sia una cosa piuttosto importante, perché abbiamo questo grande paese vicino, vicino ai nostri confini. La Nato è come un fratello maggiore per noi, per essere sicuri. Era necessario, forse è un po' preoccupante essere ora in questa posizione, ma penso sia una cosa positiva. Se sono preoccupata per la guerra, sì, certamente. Ci sentiamo tutti un po' insicuri, ma non credo che si estenderà fino a noi. È una decisione molto positiva essere entrati nella Nato. È stata un'ipotesi per 30 anni e quando la Russia ha invaso l'Ucraina è diventato abbastanza ovvio unirsi alla Nato, soprattutto quando la Russia a dicembre ha detto che tutti i vecchi territori russi appartengono all'impero della Russia. E voi sapete che la Finlandia è stata parte dell'impero russo.